. Juve, Allegri è chiaro, bisogna vincere. La concorrenza alza la competizione e la concentrazione. Il derby è sempre una partita speciale, per noi è importante, è un derby e bisogna vincere. Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della stracittadina. . La sua Juventus veleggia punteggio pieno in testa alla classifica alla pari col Napoli e l'obiettivo è centrare la sesta vittoria in sei gare di Serie A, domani sera, alle ore 20.45, contro il Torino all'Allianz Stadium. . Sarà una partita complicata, prosegue il tecnico parlando dell'avversario, che nella sua ottica ha completato una squadra che l'anno scorso era tecnicamente ottima con caratteristiche vicine a quelle del Torino, come Ansaldi, Rincon e Yang. . . Può ambire ad arrivare nelle prime sei posizioni. Gli Ajike Belotti hanno qualità importanti, ma abbiamo difensori per contrastarli. . La strada sembra quindi quella che conduce al 4-2-3-1, con la possibilità che in attacco riposi qualcuno, quadrado è in buona condizione, oggi valuterò. Bernardeschi ha un cambio importante e si sta avviando verso delle partite da titolare. . . Per Higuain non è questione di gestione, la cosa più importante è che abbia totale fiducia da parte di tutti. . L'idea su come gestire le rotazioni della Juventus è comunque chiarissima e sottolineata dall'allenatore bianconero, posso cambiare tanti giocatori, ciò che non deve cambiare è il risultato finale. . . C'è tanta concorrenza e si alza il livello di competizione e concentrazione. Nessuno sta fuori per demeriti tecnici. . 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